Nella tomba di Adaranzini è l'ultima testimonianza riguardo al disastro della Bovisa. Conoscevi il disastro della Bovisa? Fu un fatto di cronaca che fece molto scalpore in Italia nel 1916. E siamo proprio qui in via Francesco Siccoli, a Milano, dove accadde appunto questo disastro, coniato in questa maniera poi dai quotidiani dell'epoca. Il 10 novembre del 1916 è in questa zona, adesso praticamente completamente ricostruita, dove abbiamo al fianco la ferrovia con la stazione della Bovisa e poi di fronte a me c'è anche l'università. Beh, questa era una zona fortemente industriale in quel periodo. In questa zona, dove ora ci sono soltanto erbacce, c'era lo stabilimento Boston Blacking Company, lo stabilimento americano che produceva collante per calzature. Tutti gli stabilimenti della zona erano serviti da dei binari che erano collegati proprio qui dalla ferrovia, dove venivano veicolati dei treni con all'interno le merci. E proprio quella mattina era entrato un vagone tedesco con carico di 15.000 litri di xilene, che è il derivato dal benzene, e l'operazione era quella di svasare proprio questo carburante all'interno di due cisterne che erano posizionate di sotto della palazzina di un piano in cui c'era gli uffici e la portineria di questa fabbrica. A controllare le operazioni di svaso fu chiamato il figlio della portinaia di 9 anni, che praticamente si mise in questa zona a controllare dunque e l'oxilene entrasse effettivamente all'interno delle cisterne poste sotto il terreno. Il travaso era effettuato tramite un tubo di gomma. Dopo circa un'ora il bambino cominciò a notare delle fiamme. Scappò per cercare a chiedere aiuto e questo gli permise di avere salva la vita perché pochi istanti dopo un'enorme esplosione delle cisterne sotterranee fece sobbalzare i dipendenti che erano all'interno della palazzina fino al soffitto, fino a quando poi crollò tutto. Un'esplosione che si fece sentire in tutti i quartieri limitrofi. Furono sette le vittime di questa esplosione. il direttore della Boston Black & Company Hopkins e poi la portinaia Margherita Mammori, la figlia di 12 anni Maddalena, il cassiere Emilio Torreggiani e poi le dipendenti Adele Cambieri, la diciottenne Adaranzini e Giulia Slotter che era stata assunta soltanto due giorni prima. I cadaviri recuperati ore dopo la tragedia furono poi portati presso il cimitero monumentale di Milano. E proprio qui al cimitero monumentale di Milano c'è l'ultima testimonianza del disastro dell'Aboviso, ovvero l'ultima tomba rimasta, che è quella della diciottenne ad Aranzini. Chiaramente siamo nel 1916, in piena guerra mondiale e tanti giovani, migliaia di giovani in tutta Europa, muoiono ogni mese. Poi da lì a poco l'Europa sarà anche investita dall'epidemia spagnola e quindi tanti fatti di cronaca poi verranno oscurati da fatti bellici ed epidemici più importanti. Ho voluto però ricordare Ada e questa tragedia ormai dimenticata in quanto qualsiasi pezzo di storia, qualsiasi accadimento, anche quello più piccolo, a mio avviso, va comunque ricordato e commemorato. E mi spiace che nella zona dell'Aboviso non vi sia nemmeno una targa a ricordare questa tragedia.